In Brasile facevo sempre terzino, anche lì a Firenze ho fatto tanto, però anche giocavo a centro campo, esterno alto, dove mi pare lì gioco non ci sarà problema, però io preferisco giocare sempre di terzino. In Brasile giocavamo sempre o 4-4-2, 4-3 o 3-5-2, facevo sempre o largo a destra o in centro campo lì cadendo un po' a destra, perché è una squadra che mi ha aperto tante porte, il nostro direttore mi ha fatto una proposta di venire qua e mi ha dato la fiducia che volevo io. Lì a Firenze sono arrivati tanti giocatori, era un po' più difficile di giocare e io sono veramente contento di essere qua, una bella piazza, tifosi che sono veramente appassionati per questa squadra, abbiamo un grande allenatore, un direttore bravissimo, io sono veramente contento di essere qua. Però mi è piaciuto arrivare qua, sono contento, il direttore mi ha detto tante cose buone, anche il nostro mister, mi daranno sicuramente più opportunità della Fiorentina. Ci sono tanti brasiliani qua, siamo dappertutto, ma no, no, sono contento, veramente contento di essere qua, farò il mio migliore per aiutare la squadra, sarà un anno di imprestito, però speriamo che possa prolungare questo contratto e faremo di tutto per raggiungere il nostro principale obiettivo che è la salvezza e poi vedremo piano piano se possiamo salire nella classifica, ma il nostro principale obiettivo quest'anno è la salvezza e punto. Qui sicuramente ci alleniamo di più di qualunque squadra, qui il nostro mister ci fa allenare tanto e secondo me è importante quello, sono tante squadre che si allenano piano piano, qua è veramente sempre a 100%, e secondo me questo farà con che alla fine staremo in un livello più alto e potremo sicuramente fare i risultati. No, no, mi piace sempre mi allenare in tutte le squadre in cui ho giocato, sempre la parte fisica sono stato praticamente tra i primi e quindi mi è piaciuto sempre e mi piace allenare sempre forte. Lui è veramente forte, mi piace giocare con lui, lì a Firenze ha fatto un anno praticamente perfetto, ha 36 anni ma sembra ogni anno diventa non lo so più giovane, più in forma e sono sicuro che aiuterà tanto la nostra squadra. Sì, ho letto tante cose buone, ha giocato UEFA, Champions, ha vinto lo Scudetto, è veramente una squadra importante qui in Italia. La mia famiglia in Brasília è rimasta contenta che sono venuto qua, tutti lì praticamente conoscono questa squadra, la sua storia, l'importanza di questa squadra e sicuramente anche io la conosco bene. Secondo me è già un campione, un grande giocatore e sicuramente ogni anno diventerà più forte ancora e non posso dire che quando arriverà una grande squadra farà meglio perché anche qua è una grande squadra. Secondo me è un giocatore tecnico, veloce, intelligente, per me sicuramente diventerà uno dei grandi giocatori d'Italia e sicuramente d'Europa. Sempre, il mio futuro sta nelle mani di Dio, non lo so cosa succederà, il mio principale obiettivo qua è fare una grande stagione, aiutare la nostra squadra a rimanere in Serie A e poi alla fine vedremo cosa succederà. Però il direttore Soliano, un bravissimo uomo, un bravissimo direttore, ha parlato tanto con il mio procuratore, loro hanno sistemato alcune cose e sicuramente da parte mia c'è la voglia di rimanere qua, sì, anche da parte di loro, sono sicuro che c'è. Prima vista che ho visto di Verona, come città è più carina, più, come posso dire, più bellina di Firenze, anche Firenze è una città meravigliosa, però qua è più piccolina, più carina, più bellina, non lo so, è una città particolare che mi ha piaciuto tanto. È una forte squadra, Milan è sempre Milan, le nostre quattro prime partite, se non mi sbaglio, saranno durissime, Milan, Torino, se non mi sbaglio, Roma, la Juve, non lo so, dobbiamo fare al minimo, non lo so, 6-7 punti, vogliamo fare, lavoreremo per quello. Se faremo quello 6-7 punti vuol dire che faremo una bella stagione, io voglio giocare, lavorerò tanto questa settimana, sono venuto qua per quello, lavorerò come tutti gli altri, spero e farò di tutto per cominciare giocando, quello deciderà il mister, però da parte mia farò di tutto per giocare, per debuttare, per fare quello che sono venuto a fare.